Sì, ciao a tutti ragazzi, sono Gaiman2425 e oggi è un video un po' speciale perché ci sarà la storia dei Brawler. Allora ragazzi, guardate fuori la finestra, vedete dei pericoli giganti, dei Brawler? Non fidatevi, siete in sopravvivenza e oggi ci sarà la vostra guida. Shelly e Rosa vi racconteranno la loro storia. Cominciò tutto così con Shelly che dice Ehi, amichetta, amichetta, Shelly, ho trovato questo coso verde che è uscito da una cassa. Ehm, sai per caso cos'è? Ehm, 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 Shelly urlò. Fai attenzione, Rosa. Quello è segno di pericolo. Quelli sono, sembrano dei amici, Brawler, ma quelli sono mostri di sopravvivenza. Sembrano i nostri compagni, i nostri amici. Vedrai anche Leon, ti innamorerai a prima vista. Ma quello non è il vero Leon, è solo un robot. Detto meglio, un bot. Mai, e può mai fidarti di loro. Ne vedi uno? Ne scappi, lo uccidi. Ma mai chiedergli aiuto. Che lui si avvicina e ti uccide. Sei un... Puoi, se vedi una principessa, ancora peggio. Scappa, più che puoi. Stammi vicino. Ma, ma dove sei? Perché se non sei qua? Ma... No! Ehi! C'è una principessa! Le chiedo se mi puoi aiutare! E lì cominciò il vero guaio. Due cecchinate headshots a terra, morta. Cosa poteva fare? Non aveva proprio più speranze, Rosa. Per fortuna era un duo e poteva rispaunare. Ma, se non era un duo, era finita. Molto fiera! Quello, però, non vuol dire niente. E un lungo sospiro c'era prima. Un lungo sospiro di morte. Di scendi. Ma... Rosa si incavolò così tanto. Rosa, dalla rabbia, decise di sfasciarli. Ma come non ha mai fatto? Quello non era normale. Si arrabbiò. Cominciò a sfasciarli. Sfasciarli. Sfasciarli! Niente l'avrebbe fermata. Niente. Se qualcuno avrebbe provato a fermarla, sarebbe stato un pazzo suicida. Tanti provavano a fermarla da lontananza. Tanti chiamavano principesse. Ma le principesse erano inutili. Era incavolata dalla morte di sua amica. E decise. E arrivò, anzi, il momento del nostro pistolero. C'è il camagans! Le camagans! Le camagans! Rosa, a vedere il suo fidanzato, disse. Oh mio Dio! Ma tu sei vero! E lui disse. Ovvio che sono vero. E andò. E distrugge i bot. Ma come non ha mai fatto prima! Ma c'era qualcosa di male. Era infetto. Stava diventando un bot. Vuol dire che erano i suoi ultimi giorni. E lui disse. Check my guns! E venne circondato da Spike. E la principessa. Stava per morire. Ma riuscì a scappare. Non aveva tante speranze. Rosa era molto triste. E lui disse. Più triste sei, peggio è. Più debole sarai. Aspetta venti secondi. E lei rinascerà. E allora Rosa disse. Va bene. Ti ascolto. E il tempo stava passando. Ma non andava. Finché venti secondi. Stavano per passare. Tic. Tac. Tic. Tac. Il nostro coltaro diventò un bot. E la nostra amica. E rinascia. E lei la s... Lei tutta infuriata la sua amica. Era così infuriata. Che la ulti sei caricata. E non vuoi sapere come ha distrutto ogni bot. Pieno di dolore. Sentiva ancora il raggio forte di quella principessa maledetta. Decise di distruggere ogni principessa. Anche le sue barbi. Quello non vuol dire niente. Perché come ultimo ostacolo era il ragazzo di Rosa. Era l'unico vivo che gli dava la caccia. Rosa pieno di dolore. Con il suo fidanzato che si sacrificò per la sua amica. Ma poi arrivò questo allarme. E scegli. E scegli. E rosa anzi. Vise scegli. Inseguita da questo robettone. Fatto di piombo. Cosa poteva essere? Perché la inseguì? E vede un cerchio. Rosso. Quello vuol dire. Attenzione. Robot in arrivo. Scappare. E capì il perché. Come dovette scappare un altro robottone. E però venne questo bot. Maledetto. E il suo ragazzo muorì così. Venne una principessa che stava per uccidere Jesse di nuovo. Ma Jesse riuscì a scappare. Qui era però la fine. Che i 20 secondi sono passati. E 30 anche. Che quando sono arrivati i 30. Arrivò caccia al boss. Cosa stava succedendo? E non tutti confusi. Testa che stava andando a pezzi. Non si sapeva chi sarebbe andato in gioco. Il loro corpo si stava trasformando. Proprio non si sentivano bene. Ma cosa è successo? Stava succedendo qualcosa di spagliato. Stavano tutti morti. Bull. Tutto. Non capivano niente. Nita. Poggio. Beryl. Finchè arrivò uno specifico. Proprio quello che odiavano di più. La principessina Rosina. Cos'era? Perché ha proprio preso il nome Rosina da rosa? Bleh. Faceva schifo. Non era bella. Non sembrava neanche una principessa. Ma dovevano abituarsi. Devono fare più danni possibili a un robottone. Ma tutti hanno da vicinanza. Non sapevano proprio più cosa fare. Ma hanno ucciso un Beryl. Un'altra principessina? Oh no. Cominciava a stare male. Mal di testa. Di tutto. Di tutto e di più. Ma questa principessina aveva anche vantaggi. Guarda. Saltava e lasciava bombe. Incredibile. Fantastica. Aveva una buona resistenza. Ma non troppo buona. Cominciano ad adattarsi. Avevano un continuo così. Diceva Robot. Ma non erano convinti. Che sarebbero durati di più. Già si sentiva come stavano perdendo vita velocemente. Ma questo non vuol dire niente. Però Rosa non accettava che si chiamava Rosaria. perché sua amica la prendeva tutto il tempo in giro. Dicendo. Rosa Rosina. Rosa Rosina. E lei non lo sopportava. Non lo accettava. Anzi. Se la stava per mangiare. Ma sai. Ma sai. Sort cose da femmine. Ok. Ragazzi. E lei non to 커gava questiгр слова.